Ilaria Gianbruno, GDS Antarex, quest'anno la GDS presenta tra le varie soluzioni anche il video wall ad alta luminosità, 1500 candele, 3 mm di frame, quindi 6 mm bezel to bezel per ambienti molto luminosi o per fronte vetrina. Tra le altre soluzioni presentiamo quello che noi definiamo il naked, una soluzione 55 pollici doppia faccia con il trattamento bonding a 700 candele per essere installato in strutture già esistenti o per creare dei mobili o dei totem specificatamente per vari ambienti. Un'altra grossa novità che GDS presenta quest'anno è il 70 pollici ad alta luminosità, 2500 candele, completamente outdoor, IP66 per temperature molto basse o molto alte fino a 45-50 gradi. Quest'anno inoltre presentiamo per la prima volta l'e-ink, tecnologia conosciuta, GDS presenta questa soluzione per essere integrata sia indoor che outdoor. Nella gamma retail della GDS Antarex il 70 pollici a 2000 candele fronte vetrina o soluzioni senza bezel o con bezel molto sottile a 1000-1500 candele da essere integrati anche con soluzioni kinetic o interattive come touch wall fino a 32 tocchi infrared.